Una trasferta positiva con la Nazionale Azzurra, adesso ci si rituffa nel campionato. Sì, è stata una buona prova, è stato un buon torneo, abbiamo faticato un po' nel girone, però poi la partita con l'Inghilterra per il terzo e quarto l'abbiamo giocata straordinariamente. Siamo contenti del terzo posto e delle prestazioni. Adesso ci rituffiamo nel campionato, abbiamo la partita con il Firenze e da loro non è facile perché hanno un campo piccolo, abbiamo sempre faticato lì. Però comunque siamo consapevoli di quello che possiamo avere. Ci stanno ancora tante partite per la fine del campionato, però noi vogliamo arrivare là sopra e quindi dobbiamo stare attenti a non perdere nessun punto.